L'Evangelo secondo Matteo In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli Trada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture Né sacca alla viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone Perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento In qualunque città o villaggio entriate Domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti Entrando nella casa rivolgetele in saluto Se quella casa ne è degna la vostra pace scenda su di essa Ma se non ne è degna la vostra pace ritorni a voi Fratelli carissimi, Gesù Cristo ci cerca anche oggi Questa festa di San Barnaba, apostolo Con questo Vangelo meraviglioso Che rivela cosa ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo Per ciascuno di noi cosa fa oggi In qualunque città o villaggio ha domandato Se c'era una persona degna Tu sei degno della visita di Gesù Cristo Sei degno del suo amore Forse guardando la nostra debolezza Forse guardando i nostri peccati Guardando bene dentro di noi Potremmo rispondere no Hai mormorato, hai giudicato Forse sei preso all'accio di qualche vizio Il gioco, la pornografia, il bere, la droga Forse la tua famiglia non è degna Perché forse tuo figlio sta in una situazione difficile Ha divorziato Forse tua figlia sta con un uomo divorziato Che ha già dei figli Forse hai una causa in corso Forse nel fondo del cuore sai perfettamente Che stai rubando al lavoro Stai rubando non pagando le tasse Giustificandoti che non ce la fai andare avanti Non arriva alla fine del mese Dice il libro dell'Apocalisse Degno sei di prendere il libro E di aprirne i sigilli Perché sei immolato E hai riscattato con il tuo sangue Uomini di ogni popolo, tribù e nazione E ne hai fatto sacerdoti Di questi uomini schiavi, indegni Hai fatto un popolo di sacerdoti Che regnino sopra la terra C'è l'unico degno di prendere il libro Cioè di conoscere la verità Di prendere quel libro sigillato Che è la scrittura Che è il Vangelo Che Barnabà ha annunciato L'unico è Cristo L'agnello immolato Ma il suo sangue Cioè l'offerta della sua vita Per te Ti ha reso degno Tu sei indegno certamente E io sono indegno certamente Ma lui L'unico degno Ha fatto degno anche te Del suo amore I peccati Mi hanno allontanato E mi allontanano da lui E mi rendono indegno Secondo la legge Ma Cristo Ha immolato se stesso Si è fatto agnello Sgozzato Crocifisso Per farti degno Gesù Cristo ha scelto nella città Nella tua città Nel tuo quartiere Ha scelto la persona più indegna Perché Doveva fare degna Del suo amore Doveva fare degna Di prendere il libro Di conoscere la verità Di conoscere L'amore infinito di Dio Che non si ferma Di fronte ai nostri peccati Di fronte alle nostre schiavitù Alla nostra infermità Alla nostra morte Ai demoni Che ci prendono E ci tengono schiavi All'egoismo Al pensare male Di tua moglie Di tuo marito Di chi ti è accanto Al pensare male Di te stesso Al pensare male Di Dio Il demonio Che ti spinge Ai pensieri più Orribili E ti spinge In un egoismo Terribile Gesù Cristo Non si è fermato E non si ferma oggi Di fronte a questo Anzi In questa strada Che lo conduceva dal cielo Ai bassi fondi Della società Alle tombe Di ogni uomo Ha pensato intensamente A te E sta la facendo Ha predicato Ti sta predicando Ti sta annunciando La buona notizia Ti ha guarito Molte volte Ti ha risuscitato Da tante situazioni Ha purificato Tante volte Quella lebra Che ti allontanava Dagli altri Rendendoti in puro E incapace Di partecipare Veramente alla liturgia E quante volte Gesù Strada facendo Per arrivare al fondo Del tuo cuore Alla tua casa Alla tua famiglia Al fondo Del fondo Di te stesso Ti ha guarito E ha scacciato Quante volte i demoni Bene Oggi viene seriamente La tua vita Oggi che ti senti indegno E tu sai che Perché cosa Gesù Cristo Busta la tua porta Ti saluta Dice Entrando nella casa Rivolgetele il saluto Pace a te Ti dice così Pace a te Tu sei degno Della pace di Cristo Sì Tu sei degno Della pace di Cristo Perché ne sei indegno È il paradosso Dell'amore di Dio Che il nostro moralismo Il nostro legalismo L'intelligenza Con la quale Stringiamo da sedio Noi stessi E gli altri Obbligandoli A essere Come cerchiamo Di obbligare Noi stessi Secondo i nostri schemi Secondo gli schemi Del mondo Ci ha impedito Tante volte Forse fino ad oggi Di aprirci E di lasciarci sconvolgere Dal suo amore Di aprirci umilmente Al suo perdono E di lasciarci portare Da lui Quelle strade sconosciute Che sono quelle Da volontà di Dio E invece Proprio perché sei un peccatore Proprio perché non hai capacità Proprio perché siamo Dei poveracci Deboli, incostanti, incoerenti Pieni di peccati Pieni di menzogne Gesù Cristo viene Nella nostra vita Oggi E ci evangelizza Ci annuncia la sua misericordia Il suo amore Questa è la chiesa Fratelli Questi sono gli apostoli Raggiunti da questo amore La loro schiavitù La loro povertà La loro debolezza Senza che nessuno di loro Si fosse preparato A questo incontro Matteo era al banco Delle imposte Matteo stava peccando Fratello mio Paolo stava andando A prendersi i cristiani Per metterli in galera Perché potessero essere uccisi Quale preparazione morale Quale capacità di accogliere L'amore di Dio Invece è proprio quella situazione Di Matteo Quella situazione di debolezza Di peccato Di egoismo Di avalizia Aveva rovinato tutto Aveva buttato via la sua natura La sua primogenitura Di ebreo Si era messo a collaborare Con i romani Per fare i soldi Era uno strozzino Un pubblicano A sentirsi chiamare Ha lasciato tutto Perché ha sentito che uno L'uomova così com'era Ecco questa è l'esperienza Dell'evangelizzazione Dell'amore di Dio Che si fa carne Perché ogni carne Possa ascoltare la buona notizia In ebraico La radice di Evangelo Buona notizia È la stessa identica Di la carne BSR La stessa radice Quando è che nella scrittura Appare per la prima volta La parola carne Quando Adamo Destandosi dal sonno Vedeva Che Dio le sta portando E quando la vede di fronte Dice Ah ecco Finalmente questa è carne La mia carne Ostro delle mie ostre Questa è l'evangelizzazione Gesù Cristo Che si destra dal sonno Della morte D'amiello sgozzato Che risuscita E incontra te Incontra te Che sei carne Della sua carne Che sei quel pezzo di carne Preso dal suo fianco Senza il quale Gesù Cristo stesso Non può stare tranquillo Non è completo Tu sei la sua sposa Sporca Sozza Indegna Secondo i parametri culturali Secondo i parametri Della morale E della legge Senza lo spirito Sì è vero La legge ti condanna La Torah ci condanna Ma Gesù Cristo No Gesù Cristo è il nostro avvocato È il nostro sposo Viene e ti dice Coraggio Ti amo Tu sei carne Della mia carne Finalmente ti ho trovato Questo significa Entrare nella casa Venire povero Senza oro Senza argento Senza cinture Senza schemi Senza sicurezze Senza sandali Perché il nutrimento Di Cristo Dell'operaio Del Vangelo Sei tu È la tua salvetta Allora Oggi Cristo viene Alla tua vita E ti dice di nuovo Carne della mia carne Tu sei Sposa mia Questo è quello Che fa la Chiesa Attraverso ogni liturgia Quando predica il Vangelo Attraverso ogni sacramento E questo trasforma anche te e me In apostolo Chi ha conosciuto questo amore Chi oggi Si sente indegno E si vede fatto degno Gratuitamente Gratuitamente dà Gratuitamente dà Allo stesso modo Tu vedrai il tuo amore Il tuo marito I tuoi figli I tuoi genitori Il tuo fidanzato La tua fidanzata Come carne della tua carne Come un Vangelo Vivente Tu sarai un Vangelo Vivente Per chi ti è accanto Tu sarai la buona notizia Che coincide Con la tua carne Salvata dalla carne di Cristo Unita alla carne di Cristo Offerta come un agnello Per l'altro A questo siamo chiamati A essere fatti degni Visitati da Cristo Nelle nostre case Nelle nostre famiglie Nelle nostre comunità Come ha visitato Cristo I suoi discepoli Nel cenacolo Indegni Traditori All'ultimo posto Buttati fuori Spazzatura Eppure Cercati Con un amore infinito Dal Signore Pace a voi Questo Vangelo Si contiene nel cenacolo Dove tu sei oggi È il tuo cenacolo Dove sei chiuso per paura Ma ogni vita Alla quale tu sei inviato Cominciando da quelle più vicine Stanno nel loro cenacolo E Cristo in te Può apparire nella loro vita E dire Pace a te moglie mia Pace a te marito mio Nella mia carne sta Cristo Lui ti ama Ti perdona Tutto questo Si traduce In una vita cristiana Nella vita in Cristo Nella vita dello Spirito Santo Che ti porta a farti Carne della carne Della debolezza Della povertà Della solitudine Degli altri Cristo si è fatto peccato per te E in te si fa peccato Per chi ti è accanto Perché entrambi Possiamo salire al cielo Insieme a Lui Possiamo risuscitare Guarire Vedere la lebra Guarire Scacciati i demoni E abbracciare il Vangelo Buona notizia Della morte E la risurrezione di Cristo Che ci spalanca Oggi il Regno Il Regno dei Cieli è vicino Ricordati di me Quando sarai nel tuo Regno Oggi sarai con me in paradiso Il Regno di Dio è vicino Se accogli questo Regno E ti lasci portare da Lui Amare da Lui In te il Regno di Dio Il Regno dei Cieli si fa presente A chi è accanto a te Indegno Ma reso degno dal sangue di Cristo Che rende degno anche te Sapete come è morto Barnabar è stato martirizzato Bruciato per invidia E il suo corpo In seguito a un sogno Dopo molti secoli È stato trovato E incorrotto Mentre stringeva Sul petto Il Vangelo di Matteo Che lui stesso aveva scritto Ecco questo è quello Che io vi auguro Di essere bruciati Dall'amore di Cristo Per i fratelli Stringendo al petto Il Vangelo che ci salva Seppelliti Per l'amore degli altri Lasciandoci seppellire Seppellire il nostro orgoglio Il nostro superbe I nostri schemi I nostri progetti Perché stringendo il Vangelo Che annunciamo agli altri Il Vangelo che si fa carne in noi E che dà la vita A chi c'è accanto Esattamente come ha fatto Barnabar Come hanno fatto gli Apostoli Per noi Cioè Cristo stesso degli Apostoli Per salvare la nostra vita